Ok, entriamo nel mood. 3, 2, 1... E allora, ciao a tutti, buonasera a tutti. Oggi siamo, io vi conoscete, con Roberto del canale Happy Family Makers. Abbiamo deciso di iniziare un nuovo format e sostanzialmente faremo, andremo a conoscere i vari maker, youtuber, un po' più a fondo, un po' più nel profondo. E quindi abbiamo deciso di iniziare intervistandoci noi due a Vicenda e poi inizieremo anche a intervistare altre persone. E quindi come prima puntata diamo il benvenuto a Roberto. Ciao Roberto. Ciao, grazie, grazie dell'invito soprattutto. Allora, iniziamo. Se non conoscete Roberto, perché magari c'è gente che viene solo dal mio canale, Roberto è un collega sotto tanti punti di vista, anche lui, purtroppo per lui, è un ingegnere, però anche lui ha la passione del fare con le mani. Quindi iniziamo a conoscerlo meglio. Inizio con la prima domanda. Roberto, qual è stato il tuo primo attrezzo? Il primo attrezzo che ho comprato è un segretto alternativo. Penso che... Vabbè, senza andare troppo indietro. No, no, vai troppo indietro, vai. No, vabbè, da piccolino mi hanno regalato il traforo. Io appartengo alla generazione... Sono del 78, quindi si usava ancora a fare dei regali un po' meno tecnologici di quelli che si usano adesso. Quindi non c'era la PlayStation, non c'erano i computer. O meglio, forse c'era il Commodore 64, però vabbè, insomma, la grafica sicuramente non era quella dei giorni nostri. Quindi mi ricordo che all'età di sei anni mi hanno regalato un traforo. Che poi facendo il confronto con mio figlio, mi sono reso conto che era anche un po' forse presto. Nel senso che io ho provato a dargli un archetto con la... appunto la lama, ecco, la lama per tagliare, ma... Sì, si è rotta, poi... Vabbè, però lui è stato contento. Quindi il primo, 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 primo è stato il traforo. Invece, più di recente, diciamo 5-6 anni fa, avevo acquistato un seghetto alternativo. Vabbè, oltre i classici martelli, pinza, però così. Beh, meno male ce l'abbiamo un po' tutti a casa. Quindi il seghetto alternativo è, diciamo, è coinciso con il tuo ricominciare a fare cose con le mani? In realtà, sì, ho sempre seguito un po' l'esempio di mio papà che ha sempre fatto un sacco di robe con le mani. Quindi a casa nostra era difficile che entrasse un idraulico, un elettricista. Poi all'epoca, diciamo, anche la normativa, mi ricordo anni 80, mio papà si era ristrutturato tutta una casa aveva fatto l'impianto elettrico, l'impianto idraulico. Adesso, sinceramente, non voglio mettere nei casi di mio padre, però non so se negli anni, inizio anni 80, c'erano ancora tutte queste restrizioni con le norme. Si usava, o si poteva fare, di più con le mani, in maniera un po' più libera. Quindi ricordo che nell'85 abbiamo ristrutturato, lui ha ristrutturato una casa da zero. Quindi un po' ho preso il suo esempio. E quindi sono sempre stato abituato a cercare di arrangiarmi, a fare, anche per il gusto di fare qualcosa con le mani. E poi ho iniziato, sì, un segreto alternativo, perché volevo iniziare a fare qualcosina con legno. E poi ho ereditato una vecchia cassetta degli attrezzi di mio nonno falegname che non l'ho mai conosciuto. Meglio, l'ha ereditato mio padre e poi me l'ha passata a me. Quindi, tra l'altro, giù in laboratorio c'è ancora tutta una serie di pialle, sgorbie, squadre a mano, quello che un po' restaurare, mettere anche magari in una teca o comunque appendere in giro per il laboratorio. Solo che ho quasi paura a toccarle, paura di rovinarle. Sì, sì. Quindi, in qualche modo, anche voi, anche tu, come tua moglie, state costruendo, ricostruendo, restaurando, ristrutturando casa vostra. Sì, in realtà, noi abbiamo cambiato casa da tre anni fa. Abbiamo fatto dei grandi lavori di ristrutturazione, fondamentalmente li ha fatti di impresa. Io un po' ho cercato di fare un po' da... cioè, mettere a frutto un po' la mia laurea di ingegnere. Quindi ho fatto il progetto, la suddivisione degli spazi, ho fatto la direzione dei lavori, però poi fisicamente il grosso dei lavori non l'ho fatto io, anche perché, avendo una famiglia e non avendo una seconda casa di appoggio, avevamo il problema che dovevamo vendere e comprare casa contestualmente. Quindi, dovevamo restringere al minimo possibile la transizione. Quindi, se mi fossi messo io in prima persona, al di là che tante cose non sarei state in grado di fare, o comunque avrei avuto bisogno dell'aiuto di qualcuno. Però i tempi si sarebbero dilatati enormemente. Già siamo andati in affitto per tre mesi in un bidocale e in quattro col cane è stata durata. Quindi il grosso ha fatto l'impresa, però poi tutto il resto, classica ringhiera, adesso gazebo, varie tettoie, cose in giro, vabbè, imbiancare casa, adesso stiamo iniziando a costruire i mobili, insomma. Il grosso... cioè, il grosso ha fatto l'impresa, poi tutto il resto, quello che potevamo dilazionare e fare noi, lo stiamo facendo. Infatti, i lampadari, quelli che ci sono, li ho fatti io, però ne mancano ancora tanti. Sono un sacco di punti in comune con la mia storia. Comunque mi dicevai in uno degli ultimi video che adesso inizierete a costruire mobili. Sì, in realtà l'abbiamo già costruito, nel senso che stiamo andando molto a rilento, però abbiamo fatto una scarpiera, che era un mobile d'ingresso, ho pubblicato anche il video. Poi ho fatto la scrivania, quella con il sistema a carrucola. Ho pubblicato una sorta di trailer, anteprima, video, ma adesso ci sarà proprio il video, vabbè, tutta la realizzazione. Poi abbiamo già progettato il divano, una libreria e un mobile sempre per il salotto, che sarà... Ci siamo ispirati, ecco, un suggerimento, cioè un suggerimento, un consiglio, a un sito cileno, di architettura cilena, che si chiama Maderistica, e dopo magari mettiamo il link in descrizione. Praticamente loro fanno tutto con multistrato di pino, tutto con multistrato di pino, che è fondamentalmente uno dei multistrati, vabbè, diciamo più poveri, tra virgolette. Però da quello che ho capito, in Cile c'è una varietà particolare, che è, diciamo, più nobile, tra virgolette, rispetto a quella magari più comune che troviamo noi. E loro comunque, anche lì comunque, un materiale, tra virgolette, povero, loro hanno cercato un po' di valorizzarlo, e tirano fuori dei mobili straordinari. Poi, vabbè, deve piacere con lo stile, perché è uno stile un po' particolare. Però, infatti, a mia moglie è piaciuto subito, e vabbè, visto che comunque si trova facilmente anche da noi, tante cose le faremo multistrati di pino, anche se poi con la pialla e seganastro, in teoria si potrebbe fare qualcosa in massello. Però il massello è una roba che sembra facile, ma, insomma, dovrò partire da qualcosa un po' più semplice. Magari mi faccio un po' di lavoretti in laboratorio. Ecco, qui già ho un sacco di spunti. Intanto, a proposito del sito, c'è un altro profilo Instagram che seguo molto, si chiama Lozi Design. Anche loro fanno molto tutto in multistrato, e hanno un occhio per il design fenomenale. Anche di questo lasciamo il link in descrizione. Però hai toccato un paio di punti che mi piacerebbe approfondire. Per esempio, tu hai detto, ok, multistrato va bene, mi piacerebbe anche fare qualcosa con il legno massello. Però, chiaramente, è più difficile, c'è anche un rischio maggiore, perché un multistrato, non lo so, rischi più facilmente di rovinare il pezzo. Ecco, qual è il tuo approccio quando costruisci? Vuoi fare le cose perfette, e se non sono perfette non entrano a casa? Oppure va bene qualsiasi cosa, basta che funzioni, e poi magari più avanti lo risistemiamo? Eh, è una domanda difficile, perché lì mi scontro un po' con la mia voglia di avere tutto bello perfetto, un po' preciso. Anche se poi, iniziando a lavorare il legno, mi sono accorto che certi errori, il legno ti dà un po' di margine, comunque la possibilità di correggerli. Quindi è capitato diverse volte di aver, anche magari, rotto un pezzo di legno, un incasto, magari fatto anche in multistrato, che non andrebbe fatto, però, vabbè, si usa, cioè, si fa comunque, no? Ma mi è capitato anche di rompere il legno massello. Il legno, però, ti dà la possibilità di incollare, di stuccare, di riparare. Poi è chiaro che cerco sempre di pensare un po', sia durante la progettazione, anche poi alle fasi di realizzazione, perché tante volte, cioè, la difficoltà non è tanto, cioè, è sia tagliare i pezzi, dal punto di vista geometrico, in modo preciso, ma anche poi pensare come assemblarli, assemblarli in modo corretto. Sì, comunque, tendenzialmente, sono abbastanza pignolo, con quello che faccio, e se non è preciso, insomma, posso decidere anche di rifarlo. Però, vabbè, pian pianino sto correggendo anche un po' questo lato. Anche perché uno dei... L'università, secondo me, ti dà degli insegnamenti, però non sono tanto le nozioni, importanti, perché quelle... Vabbè, le studi, poi un po' te le dimentichi, se non le applichi. Gli insegnamenti che ti dà la scuola, penso, siano più che altro anche il rapporto con i professori, cercano di trasmetterti qualcosa. E uno dei professori, mi ricordo che ci ripeteva sempre, è che l'ottimo è il nemico del bene. Quindi, secondo me, tendere... Beh, bisogna sempre cercare un po' di migliorare, però facendo un passo alla volta. Se inizio a costruire il primo mobile massello, non posso pensare di arrivare a certi livelli. Quindi, sarà quel che sarà, poi il mobile dopo si spera venga meglio. La prima scarpiera che ho fatto era... sostanzialmente sono delle menzolone appese al muro. E siccome non riuscivo a farle dritte, ho detto, vabbè, le faccio storte di proposito. E ho dato un nome a questa grandissima opera d'arte, l'ho chiamato Anca Svilenka, perché erano tutte tavole messe di proposito storte, ma perché non riuscivo a metterle dritte? Eh, no, perché a volte la... Cioè, l'idea magari... Tu lo disegni, lo disegni bene, però poi... Per dire e fare... Vabbè, noi abbiamo... Vabbè, adesso ho preso la pialla e la seganastro che sono abbastanza, diciamo, semiprofessionali. Però tipo, il banco sega è quello che è. Sarà anche più grande, migliorato. Però è sempre un banco sega da 300 euro, quindi non è che può fare miracoli. Quindi, bisognerebbe un po' puntare sul lavoro manuale, però anche lì la manualità poi lascia spazio. Comunque ha la possibilità di fare degli errori, ecco. Invece, parlando del progetto, tu sei un progettista. Quanto vale la progettazione nel tuo lavoro? La fai, non la fai? Perché sei stanco di progettare e vuoi buttarti direttamente sul lavoro manuale? La faccio... Cioè, forse sbagliando, ma la faccio sempre. Cioè, non riesco neanche a fare un taglio senza avere un disegno con le misure. Anche perché non è che abbia una mente così creativa che posso iniziare a tagliare, poi improvvisare, adattare. Quello forse è più mia moglie. Io ho una mente un po' schematica da ingegnere, quindi... Cioè, difficilmente correggo un progetto strato... Cioè, o meglio, lo correggo se mi rendo conto che ho fatto un errore. Però non è che vado e dico, vabbè, inizio a tagliare, poi pian pianino assemblo, magari l'ho adatto a quello che vedo. Quanto tempo devi alla... Cioè, se dovessi dividere in fasi la progettazione, la realizzazione... Eh, io ti faccio l'esempio della scrivania che ho fatto adesso, che mi ha richiesto una progettazione abbastanza spinta, perché era relativamente complicata. forse ci ho messo una ventina di ore di progettazione e una sessantina di ore di realizzazione, più o meno. Quindi, secondo me, è un terzo, due terzi la progettazione. Cioè, comunque è una bella... Un peso, non indifferente. Un bel peso. Poi, se poi ci metti anche il discorso che fai video... Lo vedremo l'anno prossimo. Infatti, inizio alla fine. Cioè, dal progetto al video pubblicato può passare anche un mesetto. Un mesetto, e ti è finita bene. Invece, qual è la cosa che ti piace di più nel... Facciamo l'esempio della scrivania. La scrivania la state usando in questo momento. Sì. Ecco, qual è la cosa che ti è piaciuta di più in questo progetto, in questa costruzione? E mi è piaciuta, vabbè, come è nata. Abbiamo messo anche un post, forse su Instagram. Cioè, una mattina a colazione, eravamo lì e parla... Perché molto spesso, se hai anche la fortuna di avere la moglie che condivide più o meno la tua stessa passione, è anche un modo per far nascere le idee. Perché poi le idee da sole, boh, sì, nascono. Però è più facile che nascono da un confronto, no? Quindi è nata così l'idea di una scrivania e lei, quando gli ho parlato di carrucole, mi ha detto, no, è troppo complicato, non via. Allora io l'ho presa quasi come una sfida e volevo inserire per forza sta carrucola. E poi... Poi chiaramente, cioè, il progetto viene fuori più o meno per gradi. non è che inizia a disegnare subito il dettaglio della carrucola. Cioè, poi prima un progetto, come dire, di massima, come dire, il meccanismo più o meno, i principi, come deve venire, come deve venire, l'ingombro, ecco. E poi pian pianino vai ad affinare quelle parti che sono più di dettaglio, che richiedono più cura nella fase, appunto, di progettazione. e poi la fortuna è stata che abbiamo deciso di farne due. Quindi abbiamo detto, vabbè, proviamo la prima e vedere come viene. Tant'è vero che non abbiamo fatto grandi riprese, ho ripreso qualcosina, ma il grosso delle riprese lo fura. Perché è la prima volta che fai una roba, non sai se viene fuori, non sai come viene. E quindi ho detto, vabbè, arrivo fino alla fine. Perché poi la controprova l'avrei avuta solo alla fine, avendo questo sistema di contrappesi per tirare su sto monitor, perché poi, cioè, o ti metti a fare il calcolo della fisica super dettagliata, oppure dici, eh, ma sì, più o meno dovrebbe funzionare. Ti affini un po' all'istinto, eh. Esatto, esatto. E però, vabbè, è andata bene, dai, che è funzionato abbastanza subito. Quindi, adesso, vabbè, poi è bello quando pubblichi un video, comunque, quando ne parli, è bella, è bello anche, sono belle anche le reazioni poi delle persone, Perché alcuni, alcuni, ah, bellissima, altri dicono, ma cosa serve un sistema che fa scomparire il monitor? Io il monitor ce l'ho bisogno sempre, sempre sollevato, cioè, sempre in vista, però vabbè, poi la cosa bella che poi ognuno ci fa l'uso che, cioè, l'abbiamo fatta, non tanto per il gusto di fare questa roba qui, anche per la curiosità di creare qualcosa di un po' diverso, ma anche perché avevamo la necessità di fare una scrivania che guardasse verso il centro della sala, diciamo, per poter lavorare non guardando un muro, ma controllando i bambini che nel frattempo fanno i loro giochi. Quindi, l'idea di avere un monitor, diciamo, il retro del monitor con tutti i cavi che guarda verso o comunque in vista non ci piacevano, quindi volevamo che scomparisse e poi avevamo anche la necessità di quella scrivania lì di renderla un po' multifunzione, nel senso, ci lavoro io, la uso e sto in sala con gli altri senza magari rinchiudermi nella stanzetta e l'anno prossimo mio figlio inizia ad andare a scuola, magari la uso per fare i compiti, quindi butti giù il monitor e insomma ne fai un altro uso. Ecco, e come passi da questo al cioè, qual è io vedo che in molte persone c'è un bisogno di mettere le mani al lavoro perché ho passato tutto il giorno in ufficio, in fabbrica, eccetera e adesso voglio sbagarmi invece di giocare a calcetto metto le mani al lavoro. Tu vedi questa esigenza o Sì, 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 anche perché poi cioè io sono uno molto pratico quindi la praticità ce la posso mettere anche al computer però la considerazione che faccio sempre che facciamo qualcuno del mio lavoro è che purtroppo ed è una cosa che ritrovo in tantissimi lavori no? Siano essi manuali siano essi intellettuali diciamo anche se poi lì si apre un discorso ampio nel senso che il lavoro tra virgolette la fa legname non è certo un lavoro cioè è un lavoro manuale sicuramente Attenzione a quello che dici potremmo far offendere diverso questo no è un lavoro manuale ma è molto più intellettuale di quello che si possa pensare non è che si metti lì a tagliare quattro pezzi di legno e incollarli insieme cioè dietro c'è comunque un pensiero diciamo che c'è chi fa così e la differenza alla fine si vede sì no poi c'è c'è chi no ma c'è c'è chi ha cioè c'è chi ha l'istinto cioè io anzi ammiro chi mi dice no io non faccio progetti vado tutto un po' diciamo a istinto perché comunque quella è una comunque è una forma di cioè un'attitudine una bella attitudine sapere poi è chiaro che se vai d'istinto e fai una cavolata vabbè però c'è tantissimi che non fanno saltano completamente la parte di progettazione però tirano fuori delle opere d'arte e li ammiro appunto adesso mi sono perso sto dicendo aspetta mi fammi la domanda qual è? sono dimenticato pure ah il bisogno di costruire esatto sì sì bisogno di costruire quindi no vabbè ci puoi anche stare sì bisogno di costruire no dicevo io sono uno pratico quindi la praticità ce la posso avere sia nel lavoro manuale che nel lavoro intellettuale ma parlando con gli altri ho notato con qualcosa di comune che sia sul lavoro manuale sia sul lavoro intellettuale purtroppo c'è molto spesso poca come dire c'è molta routine e poca parte creativa o comunque parte di innovazione parte cioè molto spesso il lavoro intellettuale si riduce a fare come direi quel passacarte cioè nel senso che è un ad esempio è un problema negli studi di ingegneria come quello dove lavoro io cioè il problema che tu assumi un ingegnere quindi in teoria dovresti inquadrarlo pagarlo come un ingegnere però poi alla fine hai una persona che fa il 90% il lavoro passacarte e il 10% magari il lavoro da ingegnere questo per esempio capita spesso è capitato a me che l'ingegnere in realtà è un lavoro che è spesso considerato un lavoro molto quadrato cioè tu devi fare i numeri e basta invece io lo vedo da un punto di vista lo vedo molto creativo lo vedo un lavoro molto creativo perché devi risolvere problemi e devi risolvere problemi con condizioni sempre stringenti spendendo poco senza far ammazzare nessuno quindi facendo tutto in sicurezza e per esempio questo è uno dei motivi che mi ha spinto un po' a lasciare il lavoro da ingegnere perché non era abbastanza creativo per me perché mi stringeva sempre a fare cose che erano come dici tu routine cioè fare sempre le stesse cose affrontare sempre gli stessi problemi e poterli risolvere solo in un modo quindi alla fine non c'era più concetto non c'era più ingegno sì poi un altro problema penso molto comune a tanti lavori è quello che dal pensiero cioè dal progetto alla realizzazione passa troppo team e subisci troppi vincoli come dicevi tu stesso cioè vincoli economici perché devi fare la cosa devi fare bene mentre nel tuo garage riesci a dare tu i tempi sei tu che progetti magari con tua moglie o con i bambini sì sei tu che definisci il budget sei tu che cioè sei veramente ai pieni poteri una cosa che ti voglio chiedere quanto riesci a non costruire cioè io quando ho un'idea in testa continuo a pensarci ci penso di continuo e poi non vedo l'ora di poter scendere in laboratorio in garage a costruire quella cosa lì tu riesci no anch'io no no anch'io ci penso infatti ogni tanto mia moglie dice vedo che c'è il pensiero che fuma perché magari mi estraneo completamente perché sto pensando a quel tal progetto e il problema è che da quando ho iniziato a far video per fortuna purtroppo i tempi si sono dilatati cioè nel senso se io lavorassi nel mio garage per me senza far video senza condividere senza foto senza rispondere magari a domande cioè ci metterei un decimo cioè un decimo no però un terzo sicuramente del tempo quindi cioè io ho la voglia di fare una cosa farla bene cercare di essere preciso e cercare di presentarla nel miglior modo possibile e perché a questo punto fai video allora perché hai iniziato a fare video e soprattutto perché continui a fare video allora iniziare non me lo ricordo cioè nel senso il mio sogno nel cassetto è quello di far diventare ma penso come tutti la propria passione e il proprio lavoro parlo per me penso di parlare cioè penso di esprimere un'idea abbastanza diffusa è quello di diventare ricchi arricchirsi fare video risponsore cioè cosa che assolutamente non è anche per come sono fatti no non è la realtà cioè non diventi ricco almeno con le nostre con le mie proporzioni il mio canale e tutto non divento ricco non divento ricco quindi l'idea è comunque cioè cercare di trasformare questa passione nel lavoro e per fortuna purtroppo al giorno d'oggi buttarsi comunque nei social ti dà maggior visibilità e quindi magari ti fa aprire delle porte che al momento non so neanche io quali possono essere magari domani dice io c'ho la bottega cioè se domani venisse uno che abita a un chilometro da casa mia e mi dice io c'ho una bottega da Fadegname ho visto il tuo video secondo me potresti essere in grado di lavorare e fare Fadegname io potrei anche decidere di chiudere il canale e andare a fare Fadegname H24 tra virgolette quindi non è sicuramente parlo per me la voglia di apparire anche perché non sono uno che pubblica chissà quanto e tante volte ho detto sinceramente mi sforzo anche a pubblicare post sui vari social perché comunque mi rendo conto che tu puoi anche andare a abitare nel bosco con i lupi perché vuoi startene da solo però devi comunque aprire una finestra sul mondo altrimenti cioè ti metti lì e fai delle statue bellissime però poi nessuno te le compra perché o meglio vabbè ci sono casi particolari però nella media avere più visibilità ti può dar delle occasioni e delle prospettive diverse quindi sicuramente continuo a far video per questo motivo perché comunque mi dà delle opportunità mi piace comunque lo scambio con le persone cioè non è che sono un'eremita però sono anche uno come sono fatto di carattere che tante volte mi metto lì a pensare di fare una cosa vado giù magari la faccio e dopo che ho iniziato a farla dico però potevo fare un video potevo fare una ripresa potevo però sono così concentrato su quello che faccio che non cioè butterei via telecamere e tutto e mi concentrei solo sul lavoro che stai facendo è una cosa che fai che ti capita di fare o? sì di dimenticarmi di fare le riprese sì sì proprio che c'è la passione per quella cosa che devi costruire sì sì ricordo vabbè soprattutto all'inizio vabbè non avevo ancora aperto il canale quindi vabbè non c'era l'idea di fare video però ricordo che magari mi sono messo lì a fare classiche code di rondine su multistrato sbagliando così però mi ero così preso a fare sta roba che ho finito tipo alle 4 del mattino e quando sono andato a dormire mia moglie mi fa ma che ne so eh sono le 4 però e sta facendo una scatoletta che non ha nessuna funzione cioè è una scatola aperta cioè praticamente i 4 lati più il fondo con incastro in multistrato multistrato di piop quindi anche una roba orrenda poi da vedere poi mi sono messo lì ho scartavetrato ho fatto rifatto così alla fine ho stuccato è venuto qualcosa di accettabile per dire in quel momento il mio il mio pensiero dico eh magari mi metto a fare scatoline così le vendo su Amazon e magari vivo vendendo scatoline su Amazon cioè in quel momento poteva essere anche quella una come dire via d'uscita per poter trasformare una passione il lavoro quindi per me non è fondamentale fare video ma la priorità è quella di eh trovare una chiave di volta per poter trasformare una passione il lavoro e quindi dare un minimo di redditività al lavoro che fai no per pagarle i bulletti tutto qui in tutto ciò quella santa donna di tua moglie ti supporta beh si supporta noi la conosciamo abbiamo visto in diversi video però insomma penso che sia anche un po' è comunque una sfida avere riuscire a fare questo perché comunque tu parti da una posizione tu sei un ingegnere che è sempre comunque una professione nobile quindi penso che possa essere anche causa di di problemi se in una famiglia qualcuno dice guarda sai che c'è smetto di fare l'ingegnere e mi metto a fare scatoline di legno e a venderle su Etsy no in realtà sì in realtà boh di Olify Poliacop nel senso che mi ricordo che al corso finanzati alla fine del corso finanzati ci si doveva fare un regalo reciproco cioè proprio su indicazione del prete adesso vi ho fatto un regalo io gli ho fatto un collage di foto cose molto tradizionali lei mi ha regalato un set di chiavi inglesi quindi comunque secondo me ha già capito un po' l'inclinazione doveva andare a parare ok poi lei comunque anche lei abbastanza cioè mi piace comunque lavorare con le mani trasmettere questa passione poi ai bambini poi tra l'altro anche lei fa un lavoro completamente diverso da quello per cui ho studiato quindi abbiamo cercato di mettere come priorità della famiglia la famiglia nel senso che diciamo cambiare il lavoro o comunque cercare di trasformare la propria passione il lavoro ha un duplice vantaggio sia quella il vantaggio che avere un papà o una mamma che fanno qualcosa che gli piace comunque trasmette a loro anche positività secondo me e soprattutto trasmette il messaggio che comunque nella vita bisogna fare quello che piace fare senza delle forzature quindi mettere al primo posto quello e poi dà l'opportunità anche di gestire un po' la propria vita in modo diverso senza essere troppo vincolato magari a uscire la mattina alle 6 tornare la mattina alle 6 quindi anche i bambini poi cerchiamo comunque di coinvolgerli adesso sono abbastanza piccoli quindi è un po' difficile però comunque cerchiamo di coinvolgerli nella nostra nella nostra passione però si fanno coinvolgere sì sì anzi bisogna tenerli a freno nel senso che Lorenzo si rubano gli attrezzi sì vorrebbe già mettere mani a tutta una serie di attrezzi che sono ancora un po' quant'anni ha il piccolo? no Lorenzo è il grande sì Lorenzo fa 6 anni e la piccola Alessia ne fa 4 quindi però in qualche video li abbiamo già coinvolti è vero che rispondono bene ecco tra l'altro una cosa molto molto piacevole un altro punto in comune è che anche mio figlio si chiama Lorenzo una cosa molto bella secondo me è proprio far vedere che fai cioè mi ricollego a quello che hai detto all'inizio mio padre ha costruito casa mio nonno faceva il palegname e questa cosa ti è comunque passata e questa cosa io penso che passerà anche ai nostri figli adesso per esempio mio figlio in questo periodo non è tantissimo appassionato di martelli e di chiodi però comunque fargli vedere che che tu vai giù in laboratorio fatichi pensi alle cose risolvi i problemi e poi torni su con un oggetto che hai costruito tu secondo me gli passi qualcosa che è molto importante il valore di costruirsi le cose le cose da soli sì sia quello sicuramente e anche poi il discorso di cioè fare qualcosa che che a te piace fare quindi io adesso il punto è piccolo però dice da grande tu vuoi fare il gelataio apriti una gelateria nel senso che a me non interessa che lui da grande diventi gelataio falegniamo ingegnere architetto o avvocato l'importante che faccia qualcosa che lo appassioni poi la chiave di tutto è appunto trasformare questa passione in lavoro non è sempre non è sempre facile però diciamo uno forse dei vantaggi della rete è che se tu diventi bravo a fare qualcosa poi se hai la passione a fare qualcosa puoi comunque avere maggior visibilità qui ritorniamo al discorso di perché fai video inconsciamente o anche in maniera diciamo ragionata si fanno video appunto perché magari ti si aprono delle opportunità poi la strada può anche cambiare nel senso che magari nascono delle opportunità diverse da quelle che ti hai prefissato però l'importante è che fai qualcosa che ti piace fare poi sono consapevole del fatto che avere la fortuna di fare al 100% quello che ti piace è come dire una gran fortuna può essere anche magari fai l'80% quello che ti piace poi il 20% dovrai fare qualcosa che magari ti piace un po' di meno però questo percentuale deve essere abbastanza piccolo se alla fine fai il lavoro il 90% non ti piace solo il 10% ti piace poi il lavoro diventa veramente pesante cioè la mattina cioè a me ho fatto un weekend aiutare i miei in biancare a casa e comunque anche in biancare mi piace come dire mi rilassa mi metto lì io mi alzavo alle 5 5 e mezza andavo a casa di miei in biancare ma ero contento di farlo magari agli occhi di qualcuno fa sabato e domenica mezza ti alza le 5 per andare in biancare come la gente che si alza alle 6 per andare a fare il giro in giro in bici e c'è chi dice ma chi te lo può fare e lo può fare io il problema è che a me ci sono tante cose che piace fare quindi ci vorrebbe una giornata a me piacerebbe comunque andare in biancare ma anche andare a fare i giri in bici hai dovuto rinunciare a qualcosa invece per concentrarti sul fai da te sul canale eccetera sì perché comunque di cose che mi piace fare ce ne sono tante tipo io ho sempre nuotato ce l'avete il mare non ce l'avete il mare lì no però sai che alla fine quindi da noi e nuoti no nuotavo in piscina a parte che vabbè ho girato parecchio quindi sono stato anche al sud vicino al mare quindi ho vissuto anche al sud vicino al mare però tipo mi piaceva nuotare e vabbè ho rinunciato diciamo in concomitanza con la nascita dei bambini perché perché comunque quello quello ti porta a fare delle rinunce che poi vabbè non sono delle rinunce perché comunque perdi qualcosa ma guadagni molto di più però è tipo quello adesso come adesso non riesco a farlo perché perché comunque c'è ancora il vecchio lavoro però ti pesa o non ti pesa beh un qualsiasi rinuncia un minimo cioè ti pesa tra virgolette però se poi sulla sulla bilancia dall'altra parte ci metti qualcosa che ti piace altrettanto se non di più vabbè il sacrificio se vogliamo chiamarlo sacrificio risulta essere comunque più leggero ecco certo appunto per carattere cerco sempre di fare tutto però poi con l'età ho anche capito che a volte fare tutto e farlo male non vale neanche tanto bene male nel senso sia farlo male come risultato ma anche farlo che magari sono stravolto e non ho tempo neanche di riposarmi 5 minuti perché devo andare a nuotare non trago sostanzialmente no non trago cioè vedo ammiro tanto persone che fanno lavori come dire importanti ma che comunque li vedi e che riescono comunque a ritagliarsi dello spazio per fare delle cose per prendersi del tempo per loro stessi secondo me la capacità di dire adesso basta anche fare faligname che mi piace tantissimo adesso basta vado a fare una passeggiata quella secondo me è un'attitudine che a volte ammiro invece io magari sono immerso in una certa cosa e non riesco a staccarmi però bisogna comunque non esagerare non fare le 4 del mattino come mi è capitato due volte ma vabbè se capita una volta ci sta allora ti faccio un paio di domande veloci veloci abbiamo detto un primo attrezzo che hai acquistato e che ti hanno regalato qual è l'ultimo attrezzo che hai acquistato eh ho fatto anche il video ho comprato no l'ultimo attrezzo ho comprato il set di scalpelli seri della due ciliegie che sono quelli un braccio è partito per gli scalpelli sì l'attrezzo più usato l'attrezzo più usato è il banco sega è il banco sega il banco sega il banco frese sì costruire o comprare un attrezzo per esempio il banco sega eh lì secondo me bisogna fare un distingo qui arriva in un momento sì perché secondo me alcuni attrezzi ha senso costruirseli perché eh riesci a personalizzarti personalizzarti e sul mercato magari non esiste quell'attrezzo fatto in un certo modo perché rispecchia le tue esigenze oppure esiste ma ad un prezzo diciamo esorbitante di una fascia che magari ti dà tantissimo ma non tu hai bisogno di un attrezzo invece che faccia quella cosa in un certo modo perché hai quell'esigenza particolare eh comprarle cioè alcune cose come ho detto più volte tipo la la pialla eh pialla a fido spessore non ha senso autocostruirsela eh anche il banco sega eh con la sega circolare montata sotto per dire eh la vedo cioè ci sono delle cose che cioè lì magari un errore eh può essere può portare a conseguenze eh importanti nel senso che magari attacchi la sega circolare sotto eh ci sono delle vibrazioni perché ricordiamo che tu ti sei costruito il tuo banco sega da sola eh ma io in realtà ho costruito tutto il tutto l'intorno però diciamo il cuore il banco è rimasto quello come dire originale io ho costruito la battuta eh però la battuta diciamo non è in conflitto diciamo con la con la sicurezza eh attaccare invece una sega circolare che non nasce per essere attaccata per dire sotto il banchetto eh poi sicuramente io ho fatto peggio però riconosco che che comunque eh sono cose che 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 mi non parla adesso eh cito questo piccolo episodio il mio vicino di casa che poverino si è fatto male a due dita eh tra l'altro mi sento anche non in colpa però lui ogni tanto viene da me a chiedermi visto che io ho degli attrezzi un po' più un po' più performanti dei suoi mi chiede se gli faccio un taglio eh per la fretta per dire doveva fare un taglio l'ha fatto col flessibile e poi vedono se si è fatto male in modo abbastanza importante eh però vabbè sta gli faccio gli auguri approfitto per fargli gli auguri perché comunque è in via di guarigione diciamo eh e comunque appunto non si scherza nel senso che si attacchi cioè se modifichi un attrezzo che nasce per un determinato utilizzo e tu ne fai un altro eh lì ci sono magari delle si innescano tipo delle vibrazioni delle cose che chiaramente l'attrezzo non è stato progettato per quello scopo e tra l'altro chi fa la modifica in genere non ha bene coscienza di quello che può succedere spesso neanche il progettista ce l'ha è un campo molto specifico si chiama la tecnica della sicurezza in cui devi pensare a cosa può succedere di male per esempio tu uccidi le vibrazioni generalmente chi attacca una sega sotto a un tavolo che tutti abbiamo fatto io pure non pensa alle vibrazioni non pensa che ci possono essere le conseguenze però purtroppo le conseguenze in alcuni casi sono anzi con quasi tutti gli attrezzi che abbiamo in laboratorio sono piuttosto pesanti una cosa che vorrei costruirmi è una levigatrice cioè tipo diciamo che mi sono già più o meno autocostruito nel senso che mio suocero o meglio me l'ha data mio suocero ed era già un'autocostruzione nel senso che era un vecchio è un vecchio motore con attaccato il disco io adesso l'ho uso con il disco però quel motore lì vorrei utilizzarlo per attaccargli il nastro e farla tipo creare una multifunzionalità però diciamo magari sbaglio però è comunque sto modificando qualcosa ma stiamo parlando comunque di carta vetrata e il danno che può fare la vedo poi magari mi sbaglio però sulla carta sulla carta la vedo sulla carta vetrata la vedo più meno pericolosa un attrezzo che hai comprato l'attrezzo che hai che usi di meno nel tuo laboratorio la segannastro quella piccolina adesso sei passato al cararmato secondo me la segannastro quella piccolina quella che abbiamo avuto tutti quella da 350 watt giù di lì diventa come anche altri l'hanno definita tipo un traforo nel senso ci fai qualcosa di più del traforo però io ce l'ho ma l'ho usata poco e adesso che ho cambiato l'uso ancora meno sì quella sicuramente un attrezzo che ti ha cambiato la vita che quando hai detto l'hai comprato ho detto porca miseria lo potevo comprare dieci anni fa è la più alla fine spessore cioè più che mi ha cambiato la vita mi ha mi dà dei risultati che non mi aspettavo cioè praticamente tu puoi lavorare il massello cioè con una finitura io ho anche l'albero quello eliquidale quello con le lamelle lamette piccoline diciamo che sulla carta danno anche una finitura migliore praticamente tu metti il pezzo tipo in cuori non ci sarebbe neanche bisogno di levigare diciamo quello sicuramente i tre attrezzi inseparabili che secondo te ogni maker dovrebbe avere in laboratorio parliamo di lavorazione del legno sempre parliamo di lavorazione del legno beh attrezzi non so il banco sega il banco sega il banco fresa e la levigatrice quindi no abitatore ah no beh l'abitatore sì 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 l'abitatore anche se devo mettere l'abitatore tolgo la levigatrice no dico la levigatrice perché adesso sono in mente che è un cararmato la devolt che più o meno quasi tutti hanno e che vabbè uso abbastanza spesso un altro attrezzo invece che mi ha cambiato la vita è che io faccio tanti lavori e vabbè faccio qualche gioco per bambino così e quindi una delle prerogative è quella di non avere ferramenta o eventualmente nasconderla se proprio proprio devo aggiungere qualche vite quella quindi molto spesso se metto la vite poi gli metto un finto tassello davanti e poi i tasselli vanno rifilati per rifilarli usavo la la rioba con la la sega giapponese adesso ne ho comprata una che ha i denti non stradati e che praticamente ti consente perché se no quella quella classica diciamo la sega giapponese classica ha la stradatura anche se minima e quindi quando tu rifili un tassello rovini la superficie o meglio devi magari stare un po' più lasciarli un po' più di agio però poi li devi scartavetrare che è la cosa che tutti adoriamo carteggiare sì poi carteggiare i tasselli che vengono fuori che magari ti rovinano anche i dischi così invece con questa sega che non è stradata tu puoi praticamente andare a filo legno e non rovini la superficie del legno ti risparmia tanto tempo che mi ha risultato migliore è una piccola cosa però facendolo spesso esatto invece qualcosa che adesso andiamo a chiudere Campi che tu sostanzialmente lavori molto sul legno ferro no allora ho comprato una una avevo fatto il corso poi ho comprato anche una saldatrice ma mig tig filo filo però praticamente non l'ho neanche scartata quindi quindi è una di quelle cose che è lì in attesa di avere più tempo quindi stavi facendo una domanda sì diciamo diciamo come esplorazione dove ti butterai un po' sul ferro poi resine per esempio stampa 3D allora resine sinceramente non mi fanno non mi fanno impazzire quindi nel breve periodo cioè medio periodo sicuramente non l'ho ma proprio un gusto personale non mi non mi piace tanto no mi piace tanto la stampa 3D e la CNC secondo me con la CNC che vedremo a breve sul tuo canale immagino a breve stampa 3D sì CNC subito subito dopo seguire va bene ultima domanda dove vorrei essere alla fine di questo 2021 dopo il 2020 che è appena trascorso che è stato un bijou diciamo dove vorresti essere alla fine del 2021 sia come persona diciamo come famiglia che come canale allora canale prima guardavo un po' un po' i numeri del canale come cresceva come non cresceva magari cercavo anche di fare qualcosa che cioè di avere un calendario editoriale che puntasse alla crescita del canale adesso un po' ho cambiato visione e diciamo tra virgolette me ne frego un po' più del canale voglio fare comunque qualcosa che mi piace quindi sicuramente fine 2021 vorrei aver portato a termine tutta una serie di progetti che ho in testa e che sono progetti che mi mi piace fare adesso sulla carta ma immagino si possono dire o sono sorpresa no no sono vabbè tutti progetti particolari sono una vabbè alcuni li ho già detti nel senso che ho il cazzo da fare probabilmente farò anche una tettoia per le auto che è una cosa un po' alla scrivania tutto l'arredo un divano e poi ho in mente un silos con dei meccanismi particolari da tenere in salotto pieno di pellet con tipo dei un sistema di corde e carrucole tipo gunis qualcosa del genere per poter fare in modo che riempiendo questo silos con una capacità di una decina di sacchi poi posso trasferirli direttamente nella stufa con uno scivolo o qualcosa del genere ecco puoi utilizzare delle delle celle di Peltier che recuperano il calore dalla caldaia e quindi danno il meccanismo e diventi ricco perché i violi secondo me ci poter mo' oppure trovare il molto perpetuo esatto no quindi sì riuscire a portare a termine questi questi progetti quindi come il canale questo vabbè come famiglia soprattutto in questo periodo la prima cosa è la salute esserci ancora alla fine del 2021 esserci ancora una famiglia è la salute prima di tutto sarà scontato però bisogna sempre dirlo e niente poi continuare un po' a fare cioè riuscire appunto a trasformare questa questa nostra passione che abbiamo comune io e mia moglie in un lavoro in parte ci siamo già riusciti nel senso non al 100% però comunque abbiamo impostato la nostra vita in un certo modo e vorremmo continuare ad andare in quella direzione mettendo avendo alcune priorità che sono quelle appunto del lavoro il lavoro che ti piace e cercare un po' di crescere anche i nostri figli cercando di trasmettergli questa visione e la vita poi è chiaro che uno semina poi coglierà però coglieranno coglieranno e poi devo fare e devo fare anche il pollaio per le galline crescere famiglie e crescere anche le galline che adesso abbiamo prima avevamo quattro pulcini in casa adesso praticamente abbiamo quattro galline quindi sto subendo pressioni familiari per poter terminare questo pollaio però ecco tipo il pollaio il divano lo utilizzerai per le galline tipo il pollaio è una di quelle cose che potrei andare giù a crocchiare quattro pezzi di legno e farlo e sarebbe comunque bellissimo però la mia formazione mi ha portato a progettarlo addirittura adesso tetto spevente adesso che sto facendo il cappotto in casa ho chiesto ai cappottisti di tirarmi delle lastre di pulistirola magari faccio dei sandwich perché almeno sono un po' più caldi d'inverno e poi vorrei metterci dentro beh una cosa che vorrei fare tanto è mettere dentro Arduino la programmazione quello sì la sera però ecco c'è l'icontro il discorso la parte elettrica elettrotecnica sono abbastanza a zero quindi lì bisogna comunque studiare un po' e vabbè insomma beh che è un po' anche abbiamo aperto con i maker con il nome maker e chiudiamo con il nome maker nel senso che è un po' la caratteristica maker è una parola che non sappiamo benissimo cosa indica però è una caratteristica che accomuna delle persone che hanno questa passione è proprio questa di imparare cose nuove provando nell'ambito maker i progetti che mi affascinano di più sono quelli cioè quando vedo qualche video mi affascinano molto i progetti tra virgolette multidisciplinari vedere qualcuno che lavora in legno poi ci mette dentro il ferro e magari crea delle parti particolari con la stampante 3D o con la CNC il tutto magari con un meccanismo automatico con qualche microprocessore microcontrollore quello è veramente il top perché cioè una volta che hai questi 4 o 5 elementi puoi veramente cioè il limite è solo la tua fantasia puoi veramente pensare di costruirti qualsiasi cosa ti hai detto poco poi lì veramente che si aprono scenari non basterebbero non basterebbero 24 ore però va bene e allora Roberto io ti ringrazio per questa bella chiacchierata grazie a te per chi non lo conosceva saranno sicuramente pochi che non lo conoscevano ma andate a iscriversi al suo canale perché ne vedrete delle belle noi ci vediamo con un'altra intervista tra qualche settimana ancora non l'abbiamo programmata però sarò io a intervistare te giusto ci invertiamo i ruoli e poi inizieremo a intervistare tanta gente quindi se ricevete una telefonata da un numero sconosciuto non è la televendita ma saremo e neanche qui tale va bene buona serata a tutti grazie e alla prossima ciao grazie ciao Enrico ciao ciao a tutti ciao a tutti